Musica Ok Vediamo un po' cosa Dobbiamo fare intanto qui ci sono un po' di armi Ok vediamo un po' cosa possiamo prenderci L'M1-1 Che è il 98k Prendiamoci il Garant Ok avanziamo piano piano Nemici nemici Eccolo No ho ammazzato Ok ho appena ucciso un compagno di squadra Ma sono dettagli Proviamo ad usare un attimo questo qui Che dovrebbe essere ripetizione manuale Proviamolo Perché almeno è molto preciso ragazzi E ci consente di Ok forse ragazzi il volume è un po' troppo alto Non so Proviamo ad abbassarlo un pochino così Ok Dove dobbiamo andare Che dobbiamo fare Ok questo è un compagno Ok dobbiamo prendere Il lanciarazzi Adesso vediamo Un po' che fine facciamo Intanto Siamo rimasti con il Thompson Perché ci siamo tutti Sostituti Attenzione Oh 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 Tutti qua stanno Madonna ragazzi è pieno Ah questo è un compagno di squadra Perfetto Oh 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 Ok ma andiamo un po' a questo qui Ok Quello è già morto Qui c'è qualcuno Esci fuori il pezzo di merda Ok no l'hanno ucciso Ehm Vendiamoci il Thompson adesso Avviciniamoci Occhio occhio là Occhio là Mori Oh c'è San Ok Questo è Compagno di squadra Perfetto Eh Oddio Dobbiamo Distruggerlo subito Subito C'è il nemico là Perfetto Andiamo Lanciarazzi Perfetto Abbiamo distrutto anche il Panzerschreck Sì il Panzerschreck E il E il Lanciarazzi Attenzione Sento Degli Spag Ma non capisco Da dove vengano Ok 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 Attenzione Togliti Dammela a me La La torretta Vada che Vada che danno Questa ma fa Oh ma se li alzano però Manca i zombie Ma non finiscono Madonna Non ti ne so Morite pezzi di merda Morite Se non finiscono Difendi la chiesa Mettiamoci a quest'altra Ok stanno a scappare Stanno Che dobbiamo fare adesso Che dobbiamo fare Avveniamo l'obiettivo Riforza la via d'accesso Settentrionale Ok Seguiamo questi Vediamo dove ci porta Intanto con questo Questo fucile abbiamo pochissime munizioni Quindi dobbiamo stare attentissimi A cambiare Arma appena finiamo I proiettili Ok Devo ritrovare il riparo Devo ritrovare il riparo Eccolo qui Vediamo il Thompson Ok 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 Qui già non c'è più nessuno Ma l'ha segnato Tipo Una cosa Vabbè Fa niente Allora Andiamo un po' Qua sono dei kit medici Comunque Oh Chi è? Cavolo è Mamma mia Precisa la bomba Oh Precisa Precisa Anche quelli sono un po' distanti Avviciniamoci un pochino Ok Dobbiamo sostituire il nostro MP40 Perché È praticamente finito Ok Headshot Headshot Ok ragazzi Abbiamo Completato L'obiettivo Adesso Trovate L'imitare Posizioni Nemiche Di mortai Ok Stanno facendo Un macello Oh Ma che cavolo L'altro C'è armato Ma che è Sta roba Devo scappare Devo scappare Devo scappare Veloce Ma questo è il compagno di squadra Buono 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 Con te mazzo Non te preoccupare Madonna ragazzi Ma sono vista brutta Eccolo Oh Kit medico Kit medico Perfetto Occhio C'è sta cascata tutto sopra Maledizione Ce l'abbiamo Proprio addosso Dove riuscire a entrare Dai dai Sono qui Entrato Sono entrato Sono entrato Perfetto Distruggiamo Pure questo Perfetto Ragazzi Perfetto Vediamoci il Thompson Di nuovo Kit medici Kit medici Ma come parlo Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Ok i nemici sono di là Ma i I compagni di squadra Si girano dalla parte opposta Va bene Ok qui dovrebbe esserci Una torretta Un altro carri armato Che palle Andiamo a prendere Un'altra volta Il lanciarazzi Eccolo qui E vede un po' Dalle palle Deficiente Deficiente Eccoci 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 Spieghiamogli da qua Perfetto Perfetto Non mi va di tornare In dietro a prendere Il Thompson Semmai Eccolo Eccolo Meno male L'abbiamo trovato qui Allora Proseguiamo Vediamo un po' L'obiettile adesso Trovate le mie posizioni Ok Ci rimangono due Postazioni di mortai Nemiche Da Da distruggere Questo alleato Noi dobbiamo andare Dove Ok qui c'è Un fugito Da cecchino Ragazzi Però visto che qua La situazione è abbastanza Critica Perché Ci sparano brutalmente Allora Prima ho visto Ho visto le scale Oh che palle Che palle Ho visto le scale Qui sopra Ecco Forse No Non funziona Non ci si va sopra Allora di qua Vabbè dove ho visto le scale Ecco Proviamo a sparare No Da qua non possiamo fare nulla E niente Dobbiamo per forza Affacciarci da Da qui Siamo un po' distanti Magari Non ci prendono Eccolo lì Abbassiamoci Siamo più precisi Se ci abbassiamo Non riusciamo a prenderlo Ok perfetto Uno l'abbiamo sistemato Maledetto Oh Perfetto Un altro Sistemato Là ce n'è andato un altro Però Che palle Perfetto È rimasta uno là Perfetto Scendiamo subito Prima che Tornano Ecco appunto Perfetto Occhio 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 L'altro Vole di qua Perfetto Headshot Ok Rimaniamo qui Nel Nella Rincea Eh ma se li alzano Io gli sparo un petto E quelli giustamente Se li alzano Ok sistemiamo Immortali qui dietro Ne è rimasto tanto Soltanto Oh Una postazione soltanto Ed è proprio qui Una bella bomba Addio ragazzi Ok Perfetto Adesso raggiungi il capitano foley Ed entra in macchina Capitano foley Mitragliere con fucile Mitragliere con fucile Occhio Che te ciaccano Salve Si Sto salendo Eccomi qui Dai dai su Sbrigate a partire Non c'è sta la benzina Non c'è sta la benzina Dai Gli su Allora Quanto c'è ilimento Lento Questa è la chiave Questa è la chiave Ma si Stava Questo Si va sul piede Guarda Questo perde il piede Adesso Sono sicuro Dai E superò party, mamma mia, tanto se lento, taglie Ok ragazzi, abbiamo concluso anche questa terza missione Quindi se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace, un commento E se lo sei già, iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi anche alla pagina di Facebook, trovate la descrizione di questo video E niente, vi faccio vedere tutto, ciò che è al prossimo video Qui è un astuto e bye bye